buonasera benvenuti qui sul canale expedition viaggio nella scrittura del tempo questa sera è una puntata natalizia natalizia anche perché il lunedì di expedition e expedition coincide in natale per cui un regalo un pacco dono sotto questo albero va bene chi meglio essendo un canale ovviamente eretico chi meglio di loro due per invitare qui e parlare del natale io do il benvenuto che hanno accolto questo invito al nostro caro alessandro de angelis che ricercatore studioso di antico nuovo testamento e professor giovanni buonagiuso esperto anche in storia del cristianesimo che conosciamo ciao alessandro e buonasera a tutti i nostri grazie grazie è un regalo questo no facciamo un regalo e allora visto che è natale la prima domanda che pongo perché insomma domanda proprio basica allora che cos'è secondo voi il natale e ha senso festeggiare questa ricorrenza chi parte parte giovanni ma in realtà in realtà il natale è una tradizione però è una tradizione che noi contemporaneo osserviamo che però è nei confronti della quale i primi cristiani si ponevano in modo diverso perché se noi andiamo a leggere i vangeli e i primi cristiani non è che celebrassero il natale cioè non era quello l'evento fondativo della fede il che ma cosiddetto l'annuncio era del significato salvifico sotteso alla morte e per i fedeli resurrezione di Gesù quindi in realtà nel modo in cui i vangeli sono stati scritti nella loro disposizione noi vediamo la nascita di Gesù e gli avvenimenti relativi alla fine ma in realtà gli avvenimenti relativi alla nascita furono quelli messi per ultimi perché gli apostoli e con loro i primi cristiani dopo la morte di Gesù non si misero a fare una sorta di ricerca nella loro memoria nella ricerca d'archivio per quanto allora esistessero archivi e rendicontazione ma annunciarono subito il significato pasquale perché era quello l'evento fondativo Gesù Cristo nuova Pasqua poi Luca se noi prendiamo il vangelo di Luca dice siccome sono tanti che hanno posto mano a stendere un resoconto degli avvenimenti successi fra di noi dice così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate per te o illustre Teofilo questo Teofilo a cui Luca indirizza il terzo vangelo sembra essere stato un patrizio un aristocratico quindi molto colto Teofilo vuol dire amico di Dio in greco quindi un nome Teofilo quindi Luca incomincia a scavare nelle genealogie quindi fa un lavoro di in pratica in review oggi si direbbe quindi gli avvenimenti per prima sono quelli di cui gli evangelisti quelli che noi leggiamo scritti sono quelli in realtà in cui vanno alla ricerca per ultimo perché quando allora c'era la nascita la nascita di Gesù non c'erano registri standard non è Luca né Matteo potevano disporre di registri standard non c'era l'anagrafe una volta io ho fatto una battuta a cara Nicola e ho avuto uno scontro con una cattolica e dicevo certo la verginità di Maria è storica ma ci si capisce e ho detto peccato che negli archivi del Vaticano non è conservato il certificato ginecologico di Maria né l'ospedale di De Genza né di Nazareth né di Betremme ma anche Gesù una svista perché nella parrocchia di Betremme non risulta ma come mai? e neanche nella parrocchia di Nazareth risulta ma dico è possibile a volte le sviste ci sono e allora che diciamo il senso del tempo storico degli evangelisti è diverso anche perché chiaramente a loro non è che interessa scrivere una storia documentata della nascita facciamo un esempio per esempio gli svarioni che prendono Matteo e Luca sappiamo di questo io parlavo del censimento questo benedetto censimento di Augusto motivo per cui la famiglia di Gesù Maria e Giuseppe avrebbero dovuto recarsi dalla Galilea al nord alla Giudea al sud ma diciamo noi un censimento anche oggi vengono fatti i censimenti ma è strano Roma organizzerrebbe un censimento in cui invece di inviare i propri funzionari sul luogo per rilevare la corrispondenza tra il nucleo abitativo e i componenti del nucleo familiare e l'abitato per questo si fa censimento e fare scattare la cassa impone un'intera fiumana di persone di mettersi in viaggio dalla Giudea dalla Galilea fino alla Giudea allora cosa ne pensavo Augusto che era il più razionale dei Cesari avrebbe favorito le tensioni sociali che la speranza di un neonato regno davidico in Israele poteva comportare e perché c'è questo anche facendo un censimento Giuseppe era della famiglia di Davide la famiglia di Davide aveva regnato mille anni prima e cosa ne pensava Augusto il più razionale dei Cesari se avesse voluto accendersi una miccia sotto il trono avrebbe scelto una strada c'era una sola famiglia regnante Erode e Augusto sosteneva Erode la sua famiglia quindi andare alla ricerca di un discendente ipotetico di Davide è come se oggi noi andassimo alla ricerca di un discendente ipotetico di Garibaldi ed è che sarà già molto più facile trovarlo di Garibaldi ma soprattutto il censimento arrivando come censire per esempio una persona arrivando alla terza generazione ci si sarebbe trovati con qualcosa come un milione di abitanti e vai a registrarli tutti perché Davide era vissuto mille anni prima quindi è storico questo censimento e poi perché Roma direbbe alla gente di mettersi in marcia Augusto in quella terra percorso da fermenti rivoluzionari avrebbe favorito con questa fiumana di gente che andava e scendeva incontrollabile il caos, il disordine, i potenziali tumulti e quindi chiaramente cosa c'è di vero? è storio oppure è un concentrato di alta teologia in realtà una volta Monsignor Ravasi che non è eretico come noi dice bisogna un po' abbandonare quell'idea del Natale come una sorta di melassa sentimentale il biondo bambino del riccio, della capannina, l'asno e il bue e vederli piuttosto come concentrati di alta teologia simbolica cioè quello che l'autore vuole esprimere anche perché Alessandro può intervenire nelle mitologie ellenistiche assai prima di Gesù si parlava dell'eroe Salvatore nato da Vergine Alessandro è nato da Vergine Perseo è nato da Vergine è nato da Vergine Eracle è nato da Vergine Platone quindi ci sono tanti Romolo è nato da Vergine Eracle e quindi se poi andiamo nel mondo orientale abbiamo la storia dell'infanzia, della nascita virginale di Crisna e Bub quindi è un tema comune nell'Antico Oriente che il Salvatore doveva nascere in questa dimensione di purezza e via la regina Mai, la madre di Bub, era Vergine la Vergine Eracle c'è la storia dell'annunciazione della Vergine Eracle in Crisna è sempre uguale a quella di Gesù e quindi se come un archetipo diciamo un archetipo ideologico del sacro l'archetipo cos'è? è un modello madre che poi viene declinato in tanti modi è possibile che gli evangelisti poiché chiaramente esisteva prima abbiano trasferito sulla Vergine quello che in gergo si chiama l'egregora cioè hanno fatto il punto di aggregazione di una sorta di simbolismo e di mitologia antichissima al cristianesimo e quindi dopo tutto gli evangelisti conoscono la cultura greca scrivono in greco quindi è possibile che loro, che Luca quando ha fatto queste ricerche poiché non ha potuto consultare archivi standard dei registri ufficiali che allora non erano si è andato un po' alla ricerca delle mitologie ellenistiche perché il mito del Salvatore appunto nato da una donna vergine oppure nato da un dio è nato da una donna mortale è un leitmotiv che tu e Nicola che noi incontriamo in tutte le mitologie ellenistiche anche Alessandro, anche Ercole e quindi è possibile che gli evangelisti non avendo documenti siano andati un po' a rispolverare queste mitologie ellenistiche e quindi abbiano fatto un lavoro che è storico storico, teologico quindi qui quando si tratta di racconti dell'infanzia di Gesù dobbiamo vedere i primi cristiani non celebravano il Natale non c'erano rendiconti al massimo noi possiamo avere le linee principali del ministero di Gesù in Galilea ma perché è un fatto pubblico della nascita e quindi non abbiamo della nascita diciamo documentazioni esiste questo mito del nato la vergine prima è possibile che gli evangelisti volessero attribuire ai racconti della nascita non un valore storico ma un valore appunto teologico, simbolico e quindi anche perché Luca cade in uno svarione Luca dice che questo censimento viene fatto quando Quirino è governatore della Siria e lì prende uno svarione una volta con un mio amico facevamo la battuta e meno male che lui si era accinto a fare ricerca accurata perché quando Roma organizzò il censimento non era fatto Quirino ma era sul Picio Varo quello stesso che aveva perso delle gioni nella selva di Teotoburgo e Augusto abbrangolata in palazzo diceva Varo Varo rendimi le mie le gioni e poi e poi chiaramente negli anni professore lei va sempre velocissimo quindi ci sono discrasie oltretutto Roma organizzò un censimento e ci sono date però non riguardanti gli abitanti della Galilea c'è un censimento che cade intorno al 4-6 avanti Cristo perché intanto è certo che Gesù è nato 4-6 anni prima della data prevista per via di un errore di calcolo del monaco di Onigilpita nel VII secolo si sbagliò e posticipò di Seam nella data della natività però guarda casa anche lì quando la storia ci mette il trabocchetto Roma organizzò un censimento non nella Galilea ma nella Giudea perché la Giudea a livello giurisdizionale era territorio romano provincia soggettà la Galilea non era territorio romano formalmente ma era godeva dello statuto qui Alessandro lo saprà meglio di stato cliente semi-indipendente che significa uno stato vassallo che deve in pratica pagare un tributo a Roma deve pagare domaggio a Roma deve impegnarsi a condurre una politica filo-romana però per il resto il tetrarca sul trono di Galilea è autonoma ha una sua milizia ha facoltà di battere moneta ha facoltà quindi di emanare leggi quindi non c'era nessuna presenza ufficiale all'epoca di Gesù romana in Galilea quindi Giuseppe Maria guarda caso qua facciamo un po' l'avvocato del diavolo ammesso che ci fu questo censimento non furono toccati perché la Galilea non era territorio romano e quindi è inutile che si fanno la ricerca dei censimenti quindi anche lì nulla è più incontro di questi di tutti questi motivi di questi riconti della nascita quindi è inutile trovare l'eco di fatti storici Monsignor Amasi stesso che non è eretico come Alessandro dice bisogna considerarli come concentrati di alta teologia un'ultima cosa sul Natale non per rovinare la testa agli amici il 25 i Vangeli non dicono che Gesù nasce il 25 perché in realtà in realtà chi va in Palestina sa benissimo che quell'osanza dei pastori di andare a far svernare le greci cade nel periodo di marzo e aprile quando la temperatura si innalza un po' ma chi è stato in Palestina lo conferma pure Vittorio Messori che è un apologeta non è un eretico lui è assistito a una funzione a Betlemme dice c'era un freddo che pungeva la pelle ora tu immagini dei pastori che tengono all'aldiaccio fuori dalle pecore sarebbero stati dei pazzi sarebbero molto iniziti dal freddo quel giorno e poi c'è un motivo per cui il Natale cade il 25 dicembre guarda caso era il Dies Natalis Sol Invictus per i Romani c'è la festa del Sol Invictus che era l'ideologia ufficiale delle legioni chi era il Sol Invictus era Mitra un Dio persiano che i Romani avevano adottato era garante dei patti e dei giuramenti dentro una serie di trasformazioni Mitra era stato assunto in modo sincretistico con il Sole quindi è il Sole e quindi perché il Dio Sole Helios che i Romani guarda caso avevano importato dall'Egitto c'è sempre qualcosa che ci riporta là perché il Dio Helios in quel giorno cadeva il Dio Helios si viene collocato in quel giorno perché in quel giorno cade che cosa il solstizio d'inverno in cui in pratica che cosa succede che cosa succede al solstizio che le giornate gradatamente la notte gradatamente diventa sempre minore e il giorno comincia a aumentare un po' e quindi il solstizio vuol dire che il Sole sta quindi si ha una giornata in cui luce e oscurità giorno e notte si equivalono quindi c'è tutto un significato simbolico pregresso in quella data del 25 dicembre tanto che agli origini ti dico Nicola e poi mi stoppo perché io sono logorroico non voglio togliere ad Alessandro i primi cristiani furono tra chiesa orientale e occidentale furono incerti su quando celebrare il Natale addirittura la chiesa ortodosso oggi lo celebra quando noi celebriamo l'Epifania cioè il 6 gennaio nelle chiese orientali ci dicono i padri della chiesa addirittura si propondeva per marzo prima aprile e marzo poi dopo che Costantino nel III secolo cristianizzò i vecchi oculti pagani c'era un giorno che fece a lui per non scontentare l'ideologia dei soldati legati al vecchio culto solare che cosa fece una sovrapposizione dei vecchi oculti il 25 dicembre che era data del Dio Sole diventa data del Signore Gesù il nuovo sole che illumina il mondo e su questo ora mi sto zitto ecco tutto l'ambaradande che c'è sul Natale ora la parola d'Alessandro bisogna riavvolgere il nastro e ascoltarlo a rallentatore professore a rallentatore lo dico a tutti chi ha la partita riavvolge e con calma ascolta ecco mi raccomando con l'illuminazione professore davanti altrimenti qui salta appunto intanto vedo Alessandro che tu anziché aver fatto l'albero di Natale vedo che dietro hai la tua lavagna di cui non ti separi mai però con delle luci che questo è il tuo albero ammettilo l'albero con le genergie no c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Giovanni stai vicino al microfono che tu hai questo molto da aggiungere i fenomeni ancestrali in quanto rispetto all'acribbia che a lui di ricercatore perché io magari essendo un insegnante mi sento un po' raffazzonato rispetto a lui invece l'albero dice che sono state saurietate adesso non parlo più no no come no l'ultima volta hai parlato poco perché avevi problemi di connessione quindi oggi avrai molto più spazio dicevo sono miti ancestrali che risalgono abbiamo addirittura abbiamo i primi laboratori astronomici con Begley Tepe ed altri siti archeologici antichissimi che risalgono quando l'uomo scoprì l'agricoltura perché perché dopo il sorzizio invernale le giornate come diceva Giovanni cominciavano ad allungarsi e quindi il terreno si preparava per la semina e per nuovi raccolti ma a parte questo sul poi nel cristianesimo fu creata una vera e propria allegoria solare facendo nascere Giovanni Battista sei mesi prima di Gesù quindi abbiamo in Giovanni Battista il sole galante e in Gesù il sole nascente non è un caso che quando poi Gesù battezzerà Giovanni Battista battezzerà Gesù sul Giordano molti dei discepoli di Giovanni Battista passarono nelle fila di Gesù e altri discepoli di Giovanni Battista si lamentarono e Giovanni Battista gli disse ai suoi discepoli così deve essere perché io devo diminuire mentre Gesù deve crescere quindi ci troviamo davanti a un'allegoria solare vera e propria l'ultima volta eravamo andati sulla morte di Gesù e quindi stavamo Alessandro sei vicino al microfono così ti sento meglio vedi se abbasso se si può alzare dimmi se si sente meglio adesso così perfetto vorrei ripartire ancora una volta era una domanda quella del Natale giustamente perché andiamo in onda il giorno di Natale però è ovvio che il tema principale sono sempre questi approfondimenti che noi facciamo ovviamente ogni tanto ci ritroviamo e sulla figura di Gesù e in particolare noi parleremo sempre almeno oggi comunque della Ressurrezione e ovviamente di quello che è cosa dobbiamo pensare era vera apparente come è in realtà morto Gesù qua ci sono ovviamente miliardi di domande però ecco volevo continuare visto che l'altra volta un po' andava via la linea non si riusciva tanto a fare un discorso quindi vai scusami Alessandro vai dicevo che l'ultima volta abbiamo parlato della crocifissione di Gesù e di come potrebbe essersi salvato ci siamo avvalsi anche della figura del cardiologo Domenico Corrado e oggi io invece ridarei ancora una volta la parola a Giovanni per professore per far notare abbiamo scritto sui libri interi capitoli su questo tutte le incongruenze che ci furono in questo processo congruenze dovute alla violazione delle norme ebraiche ed anche romane quindi io ridarei ancora una volta la parola a Giovanni per parlarci di queste aberranti incongruenze che già di per sé inficerebbero un processo che sembrerebbe avere poco di storico dal punto di vista della narrazione sì e poco di storico sì soprattutto delle incongruenze rispetto alla storia ufficiale e primo il fatto che Gesù viene arrestato di notte nella notte tra il giovedì e il venerdì e portato in tribunale dal gran consiglio del Sinedrio dove si terrebbe il processo ora qualsiasi professore di diritto penale ebraico sa che nessun tribunale penale ebraico si riuniva di notte primo punto nessun tribunale penale ebraico tanto più si riuniva la notte di una vigilia importante come il pesasce ebraico che ricordava la liberazione dall'Egitto quindi già prima discrasia però debbo come tesi di sbarramento osservare che qualche studioso cristiano che vuole salvaguardare un po' di veridicità alla narrazione diceva ma Gesù poteva essere portato nell'appartamento privato di Caifa dove si tenne una riunione informale del complotto che decretava la morte e poi consegnato a Pilato con la raccomandazione dell'esecuzione capitale potrebbe essere un'ipotesi e però andiamo a vedere c'è un altro c'è un altro punto chi è specialista della legge ebraica sa perché è codificato nella Mishnah che è il compendio di leggi e di spiegazione alla legge delle usanze igieniche sanitarie di Israele che l'imputato non poteva essere giudicato in particolare se egli aveva assunto delle bevande alcoliche uniebrianti e chiaramente come il vino ora nella fe durante l'ultima cena due boccali di vino che erano quelli dell'allele il calice dell'allele e del birkat amazon in ebraico Gesù li aveva bevuti quindi in ogni caso essendo stati bevuti due boccali di vino Gesù non poteva essere giudicato poi ecco altro elemento del processo altro elemento Marco dice che la testimonianza più antica che hanno bisogno di testimoni ma hanno bisogno di testimoni ma anche così le loro testimonianze non erano concorti ma come Gesù avrebbe si sarebbe dichiarato in pubblico figlio di Dio Gesù avrebbe detto io distruggerò questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere tutto ciò che lui aveva fatto secondo Giovanni si era programmato addirittura pubblicamente uguale a Dio hanno bisogno di testimoni e soprattutto che le loro testimonianze non erano concordi infatti Marco dice allora si presentarono due testimoni e dicono costui ha detto io distruggerò questo tempio fatto dalla mano dell'uomo e in tre giorni ne ricostruirò uno non fatto dalla mano dell'uomo ma anche così le loro testimonianze non erano concordi ma come mai cioè tu portate un uomo che è stato riconosciuto come pubblico bestemmiatore sovvertitore dei costumi che si è dichiarato uguale a Yahweh e non avete testimonianze d'accordo altro punto dell'incongruenza che di questo parla Ed Parish Sanders che è uno dei maggiori biblisti la rafforzatura teologica che gli evangelisti fanno facendo domandare a Caifa qualcosa che con l'impianto accusatore del processo in realtà c'entra come cavolo a Marenda quindi l'accusa portata a Gesù non è quella di essersi arrogato dei titoli cristologici perché quelli sappiamo che i titoli cristologici saranno piuttosto un'attribuzione della comunità primitiva Pasqua ormai è risultato assomato anzi molti storici dicono è quasi verosimile che Gesù in vita sua non si sia attribuito nessun titolo tanto quello di Barnash figlio del luogo e allora la questione l'accusa portata la minaccia portata al Tempio Gesù non viene processato per pressione di eterodossia con la legge ebraica per usurpata divinità o titoli divini ma per la minaccia portata al Tempio e per l'ordine pubblico quindi se nessuno tragetto di fare stare a Gesù non lo fa a motivo del dissenso teologico ma a motivo del fatto che lo considera potenzialmente pericoloso quindi Gesù con quella frase aveva minacciato il Tempio e si era dato delle aria agli occhi del sommo sacerdote ma ecco come gli evangelisti sono bravi a spezzettare una narrazione storica e a inserire una teologia allora il sommo sacerdote vedendo che Gesù tace insomma questo silenzio a lui non fa si dice e allora fa una domanda per scuotere ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente questa domanda ci azzecca come capo non era quello il motivo per cui Gesù era portato non per essersi attribuito dei titoli quindi come giustificare questa domanda in realtà questa domanda va giustificata col fatto che quando i vangeli nascono gli evangelisti hanno già sviluppato una cristologia che Gesù muore come vittima sacrificale per i peccati degli uomini è necessario quindi mostrare che cosa che Gesù è morto per testimoniare quella cristologia è un po' un lavoro incastro che fanno gli evangelisti quindi oltretutto il resoconto così come lo raccontano gli evangelisti non è storico perché Caioca si straccia le vesti posto veramente che Gesù affermi di essere figlio di Dio nel contesto del giudeismo palestinese del primo secolo Alessandro tu sai figlio di Dio non costituiva una bestemmia perché non è un essere umano anche i membri della porta celeste di Yahweh erano detti Elohim e Dio e figli di Dio quindi noi abbiamo dice Barti Erman che è un grande esegito una piramide divina quindi il titolo figlio di Dio lo potevano assumere i signori ellenistici era un titolo augusto eccellenza Filone di Alessandria dice che l'uomo conquistato dalla scienza dell'uno diventa come un figlio di Dio anche profeti sono figli di Dio il re era il figlio di Dio per eccellenza addirittura anche gli imperatori si sono elettiti anche gli imperatori figlio di Dio e Gesù diventò Dio queste cose le dice quindi che cosa perché il sommo sacerdote con l'incongrenza della scena del processo si straccia le vesti scandalizzato dicendo che Gesù ha bestemmiato Gesù avrebbe bestemmiato se con quell'espressione egli intendesse che cosa quello che il dogma cristologico di Nicea di tre secoli dopo ha stabilito con figlio di Dio e quindi non si capisce perché l'affermazione di Gesù di essere figlio di Dio sia una bestemmia cioè gli evangelisti che cosa fanno una retro proiezione della loro cristologia fanno in pratica tacciano quell'affermazione di bestemmia perché vogliono dimostrare che Gesù è morto per fondare la cristologia quindi in realtà quel processo che cos'è è la fine della vecchia religione è l'inizio di una nuova religione cosa che non è per cui un ebreo che giustamente diceva un grande critico che era Alfred Luasi un ebreo che domanda a un altro ebreo del primo secolo se egli sia figlio di Dio non può intendere qualcosa come se egli sia in anticipo a conoscenza del dogma cristologico di quattro secoli dopo che farà di Gesù un'iposta si divina quindi Caifa non poteva conoscere l'anticipo quindi la domanda è quel lavoro di trasletterazione che fanno gli evangelisti ecco perché c'è poco di storico o meglio dati storici mescolati alle teologie loro in pratica reinterpellano quel termine secondo il posteriore dogma cristologico ricordiamo che la stessura dei Vangeli casa nel primo secolo quindi quando già le linee della cristologia e quindi ma è assurdo che Caifa con figlio di Dio intendesse che cosa la seconda persona di una trinità divina allora se Caifa ha pensato questo la bestemmia dalla parte sua volere attribuire che nella mente di Caifa ci fosse il dogma trinitario e quindi egli intendesse figlio di Dio come incarnazione della seconda persona della trinità è assurdo quindi in realtà che cosa succede che gli evangelisti retro proiettano all'indietro lo faremo sempre problematiche attuali che per termine ha assunto quando essi già predico quindi con figlio di Dio Gesù intendeva quello che qualunque ebreo intendeva e chiaramente figlio di Dio nel giudaismo tutti i giudei maschi adulti si definivano figli di Dio anche nel re l'abbiamo visto in questo non c'era un'affermazione di trascendenza di soprannaturalità ora qui un ultimo appunto la parola è Alessandro cosa succede che figlio di Dio in area semitica non indicava anche se indicava uno stato di elevazione cioè di superiorità il re veniva costituito e deve innalzare non implicava però un significato metafisico e tutti gli eseggeti a cominciare dallo stesso Sembers fino a Barti Erman credono che il termine abbia assunto invece una sfumatura metafisica che travalica dai confini del giudaismo quando il cristianesimo penetra nell'area culturale di lingua verifica perché lì il punto di rottura del patatraca allora i pagani possibilmente alla luce delle loro storie tu hai parlato di miti ancestrali reinterpreteranno quel figlio di Dio secondo i figli di Dio mitologici della cultura ellenistica e allora il termine assumerà un significato che rompe col giudaismo ma attenzione quando il termine viene visto con questo significato la rottura col giudaismo già c'è se Gesù dobbiamo interpretarlo nei parametri del giudaismo Gesù non può avere detto qualcosa che travalica dai confini del giudaismo tanto più che in Israele nel libro del profeta Osea figli di Dio esatto collettivamente dall'Egitto ho chiamato mio figlio con riferimento a che cosa all'uscita del popolo ebraico dall'Egitto tra l'altro gli evangelisti fanno una traslitterazione dal significato collettivo quando Gesù sarebbe l'Egitto lo sappiamo e poi ritorna quando muore quando muore Rodi dice dall'Egitto ho chiamato mio figlio e quindi questo è un lavoro diciamo di un casto di trasposizione che fanno gli evangelisti non si può concludendo considerare l'affermazione di Gesù come incompatibile con il giudaismo palestinese del primo secolo perché Caifa invece di tracciare quell'affermazione come blasfera se la scena del processo fosse il resoconto diciamo di una scena di interrogatorio reale avrebbe dovuto condurre un ulteriore termine per capire cosa il termine un ulteriore indagine per capire cosa il termine significasse esattamente per Gesù non si capisce perché Caifa doveva interpretarlo secondo il dogma dei quattro secoli dopo e invece di condurre un ulteriore in chiesa si abbandona questa esibizione di Sbordogno quindi in realtà noi non dobbiamo decidere non dobbiamo sapere se Gesù disse sì o no a questo punto non importa anche perché gli evangelisti fanno rispondere a quella domanda in modo diverso in pratica secondo solamente Marco Gesù dice lo so secondo Matteo tu l'hai detto che è una tipica formula rabbinica che non significa che l'interlocutore convenga o non convenga con quanto viene detto ma è quanto tu supponi in Luca poi anzi e fa riferimento al figlio dell'uomo anzi io vi dico che è proposizione avversativa che voi vedrete il figlio dell'uomo in Luca Gesù addirittura risponde in modo che dice tanto che ve lo dico a fare voi non mi credete ora davanti diciamo quello sarebbe il titolo di Gesù l'evento fondante della fede i tre evangelisti fanno rispondere a Gesù in tre modi diversi quindi che cosa possiamo dire che loro retro proiettano sono i vangeli che cosa sono proiezioni nel passato che la comunità perché questa comunità è sempre vivente malleabile plasma sta vivendo nel presente quindi loro proiettano titoli cristologici nella situazione attuale in cui si svolge la predicazione all'indietro sulla vita di Gesù e quindi per tutte queste serie di motivi in realtà io ho il sospetto fondato che in realtà del processo a Gesù non abbiamo a che fare con una sorta di registrazione stenografata una sorta di verbale di istruttore a dialogo ma sia probabilmente da spunti autentici di Gesù che viene considerato un pericolo dell'ordine pubblico ci sia poi una rilettura teologica i vangeli sono come dice Barti Erman overwriting cioè sovrascritti prendono spunto da fatti storici ma poi a un certo punto c'è la sovrastruttura teologica quindi in realtà di questo processo a Gesù in realtà secondo me di storico c'è ben poco tranne il fatto e concludere che considerò Gesù un pericolo per l'ordine pubblico ma per la minaccia portata al Tempio non per la questione dei titoli cristologici adesso la parola a te Alessandro sì ma tra l'altro non si capisce neanche come addirittura a parte secondo l'evangelista Giovanni un tribuno con un'intera corte 480 legionari Gesù viene portato davanti a Pilato e Pilato cade dalle nuvole dicendo che accuse portate verso costrui chi ha mandato questo tribuno ma dico a un certo punto Pilato quindi non avrebbero mai portato da Anna e poi da Caifa ma direttamente davanti a Pilato la corte porta Gesù da metà se l'arresto l'ordine dell'autorità prefettizia perché la corte ricordiamo è la decima parte di una legione ora 600 uomini vengono inviati per restare Gesù una volta che l'ho abbattuto ho detto unesima maledizione dai cattolici che mi sono beccato e manco fosse Vallanzasca e ho fatto un'altra battuta con riferimento a Palermo quando hanno arrestato Matteo Messina Denaro ne hanno mandati più o meno ma Gesù doveva essere più pericolo stiamo parlando cioè per arrestare un mite predicatore di pace e amore tu mobiliti un'intera corte e allora qui dobbiamo andare a testimonianze e che strevangeli di cosa si aspettavano i romani di trovare sul monte degli olivi non sicuramente dodici peace and love innocenti predicatori di pace e amore i santini con l'aureo dell'arte che cosa si aspettavano evidentemente di trovare qualche movimento di masso qualche focolare insurrezione che poteva organizzare in nome di questo fatidico regno di Dio a cui gli ebrei davano un significato nazionalistico di riscosso della nazione non era il paradiso cristiano e cattolo ma era un regno da instaurare concretamente in un Israele libero il segnale della marcia su Gerusalemme quindi perché i romani non inviano tante evidentemente non aspettano di trovarsi dodici in preghiera sotto l'albero degli olivi come la tradizione ha sempre rappresentato ma un movimento che poteva insorgere contro Roma e quindi anche questo è tutta diciamo tutta una serie di incongruenze e di contraddizioni in cui i nostri cari Marco Matteo e Luca e Giovanni incappano nel tentativo di dare questa rispettura teologica le accuse che poi portarono verso Gesù furono addirittura accuse di stregoneria e di impedire di pagare i tributi a Cesare ma noi proprio attraverso i testi copti ritrovati anagammati siamo riusciti poi a svelare quello che successe successe che dopo la morte del tetrarca Filippo Antipa si mise d'accordo di nascosto con Erodiade moglie di Erode Erode era sempre figlio di Maria Boeto terza moglie di Erode grande e vera madre di Gesù e andò dall'imperatore di Berio a chiedere che gli fosse data la tetrarchia del defunto fratello Filippo o perlomeno la regalità questo portò ad un sollevamento popolare da parte di Giovanni Battista che venne osseggiato dal tetrarca Antipa si dice che venne catturato e fu rinchiuso al Mageronte ed è un falso assoluto che ritroviamo in antichità giudaiche perché poco sempre nella stessa pagina lo storico che l'ho fruttito c'è a Flavio Giuseppe ci fa sapere che la moglie di Antipa perché Antipa era sposato la moglie che Antipa ripudiò per fare la proposta di unirsi in matrimonio con Erodiade venne a sapere di questo tradimento del marito e mandò i suoi messi dal da suo padre dal re Areta di Pieta proprio sul Mageronte quindi Antipa è un falso assoluto che poi venne catturato cioè che Giovanni Battista venne catturato da Antipa e rinchiuso nella forchezza del Mageronte visto che Areta di Pieta suo socero scese con l'esercito sbaragliò completamente l'esercito di Antipa e quindi non avrebbe mai potuto rinchiuderlo nella fortezza del Mageronte che era sotto proprio la giurisdizione del re Areta di Pieta ed è un falso clamoroso ma oltre a questo quindi abbiamo anche il re Areta di Pieta che è sceso in campo con l'esercito contro Antipa e lo sbaragliò c'era uno stato di tensione tra il re Artabano II ai confini dell'Armenia e Vitellio che aveva ben quattro regioni in quei confini per cui a questo punto l'imperatore di Berio che cosa fece? mandò uno dei suoi messi Carios a dire che fosse data la regalità a Gesù ma perché la regalità a Gesù? solamente i figli di Erode potevano avere la regalità morto il tetrarca Filippo erano rimasti solamente Erode che sposò Erodiade Antipa e Gesù Erode fu accusato da suo fratello Antipa di sedizione contro Roma tant'è che l'imperatore di Berio disse ad Antipa di confiscargli tutti i beni e di mandarli proprio a Roma l'amministratore di Antipa era Cusa Cusa era il marito di Giovanna e sappiamo che era una discepola di Gesù Cusa che assisteva Gesù con i suoi beni e i suoi discepoli Susanna e Giovanna ma non gli recusa Ed ecco perché vennero a sapere in anticipo delle intenzioni di Antipa non solo che cosa fece Antipa e andiamo a spiegare le inconcruenze poi dei Vangeli chiamò a sé quando venne a sapere che Tiberio aveva dato a Carios il mandato di verificare se fosse il caso di dare la regalità a Gesù perché evidentemente aveva trovato in lui un ruolo di probabile pacificatore affinché non si sollevasse anche la intera Palestina e Roma si trovasse tra due fuochi contro Artabano e contro e contro gli ebrei Antipa minacciò di taglio della testa tutti i sommi sacerdoti se non avessero accusato davanti a Pilato Gesù si fece inoltre dare da loro una grossa somma di denaro che diede a Pilato ora nel Vangelo di Matteo guarda se non sbaglio Alessandro io ho letto che questa che i dudei danno del denaro a Pilato che questa è la versione del cosiddetto testimonium slavianum che è stato ritrovato c'è un antito manoscritto della testimonianza di Giuseppe Flavio in lingua slava perché c'è una testimonianza una versione in lingua etiopica una in lingua slava e da secondo me una versione dei fatti più o meno incongruente di quella dei Vangeli e più coerente lo slavianum come l'hanno chiamato hanno convenuto gli studiosi di chiamarlo è russo antico e quindi ovviamente Pilato accettò questi soldi ma aveva paura perché sarebbe andato contro le decisioni addirittura dell'imperatore tant'è che le scamotagie che troveranno per dargli l'accusa di lesa maestà e crocifiggerlo quale fu quello di essersi fatto re della Giudea perché la Giudea nel 6 dopo Cristo tornò venne annessa la Siria che era provincia romana quindi se l'imperatore aveva dato la regalità a Gesù non era data certamente per quanto riguarda la Giudea in quel caso era prevista l'accusa di lesa maestà e quindi anche la crocifissione cosa ci dice Matteo ci aggiunge un'altra cosa che casualmente si trovava lì di passaggio Antipa sapendo che Gesù era Galileo mandò Gesù da Antipa quindi immaginatevi Antipa che si trova suo fratello più piccolo davanti Antipa gli mise uno scettro lo irrise gli mise un mantello ma lo rimandò da Pilato perché non voleva assumersi neanche Antipa diciamo l'onere di uccidere il suo fratello più piccolo e Pilato a quel punto che cosa fece decise di flagellarlo accusato dai summi sacerdoti ma perché secondo la mia ricostruzione logica perché aveva accettato comunque i soldi da Antipa e Antipa voleva che a questo punto fosse Pilato a giustiziarlo ma non se la sentì certamente di ucciderlo sarebbe andato incontro alle ireti di Berio tant'è che Tiberio nel 36 questa è una cosa che pochi sanno fece addirittura un senato consulto verso il senato per defigare Gesù e in questo senato consulto fu rifiutata la defigazione non solo ma fu addirittura subito sostituito dal procuratore Marcello Pilato perché evidentemente Tiberio venne a sapere quello che aveva fatto allora in questo caso noi andiamo a capire le dinamiche di un processo e di tante incongruenze all'interno di questo processo perché tra l'altro molti di questi sacerdoti Giovanni nelle nostre scoperte storiche abbiamo visto che erano parenti di Gesù appartenevano alla famiglia di Gesù ma erano stati minacciati di uccisione da parte di Antipa e si fece addirittura dare denaro da loro per accusare Gesù Pilato a quel punto quando andarono a chiedere Giuseppe da Rimatea e Nicodemo il corpo di Gesù a Pilato erano passate quasi tre ore perché si parla le nove del mattino nel Vangelo di Marco e quindi noi sappiamo che spessavano addirittura le tibie condannate perché prima di morire Gesù non è praticato il crurifragium e già questo ci dà un po' puzza di bruciato che l'esecuzione non fu legalmente completa si voleva lasciargli una chance complicità negligenza superficialità perché i due crocifissi con Gesù fu praticato e Gesù no perché a questo punto io ne ho parlato con il nostro amico e con il nostro amico che la crocifissione in sé chiaramente era una morte che comportava anche un'agonia due o tre giorni perché si poteva anche sopravvivere due o tre giorni e bisogna sfatare il pregiudizio che i crocifissi morissero distanguati no i chioni servivano per assicurare la vittima al pativo quindi di che cosa moriva un crocifisso? la posizione in pratica del torace che a poco a poco diventando inespansibile lo faceva precipitare in uno stato di asfissia traumatica o di in pratica shock cardiocircolatorio cioè in pratica tutto in quella posizione sulla croce il sangue dal cervello va nello stomaco ed è la fine e allora che cosa succede? che cosa succede? perché il comandato per evitare questo si drizzava sulle gambe per ridurre la dilatazione del torace e respirare quindi se gli venivano rotte le tibie non poteva più far leva sui muscoli delle gambe per ridurre la dilatazione del torace e respirare e quindi subito si verificava una morte per soffocamento in pratica il corpo insaccava su se stesso questo non fu applicato nei confronti di Gesù in quanto i soldati ritenderlo che fosse morto perché mai? e poi anche la morte rapida di Gesù in capo a tre ore di crocifissione in realtà com'è possibile che Gesù fosse morto dopo appena tre ore di crocifissione? un altro particolare che io vorrei aggiungere è ne parlavamo col tuo amico cardiologo del sangue al costato che poi la Bibbia di Gerusalemme traduce in realtà con il fianco solamente la vulgata latina costato il centurione per accertarsi che Gesù sia morto davvero gli trafigge con la lancia gli buca il fianco ora cosa succede? che qualcosa che a livello medico oggi non dovrebbe succedere sangue e acqua anzi la tradizione originale è sangue zabbillante ora gli antichi padri della chiesa dicevo io dovessero da sempre anche origine scontrarsi con i pagani con i ministri pagani che dicevano ma sappiamo tutti che dalla ferita inferta a un cadavere non escono sangue e acqua ma tuttora più qualche goccia di sangue disseccata perché la pompa a cuore smette di urrorare quindi com'è possibile che dal costato o dal fianco di Gesù sia scaturito questo acqua sangue e acqua così abbondante quindi se noi andiamo a vedere tutti queste anche qui incongruenze c'è da dubitare ma realmente Gesù morì sulla croce e poi un altro particolare la spugna imbevuta la spugna imbevuta come è possibile che Gesù che a Gesù cade la testa sul petto dopo aver bevuto una così aspra l'aceto se tu vedi tutti gli evangelisti sono d'accordo nel dire che a Gesù cade il capo sul petto nel momento in cui il soldato gli fa bere succhiare la spugna con l'aceto noi sappiamo che l'uso di sostanze in grado di indurre una morte per sincope o uno stato apparente di delibere non notte fin dall'antichità il caso più comune nella letteratura è Giurietta e Romeo ne parlavo io a quel punto c'era in pratica nella registrazione se qualcosa si è cominciato a guastare e quindi noi sommiamo tutte queste particolari ultimo i romani non concedevano questo è il più importante delle incongruenze sepoltura al corpo di un giustiziano noi abbiamo delle leggi romane in cui c'è tale asprezza che Augusto un condannato alla croce che supplicava di dare sepoltura al suo corpo gli risponde brutalmente che sarebbe stato affare degli uccelli quindi il compito dei romani era lo scopo dei romani fare sì che la crocifissione fosse anche un rito di degradazione fisica e morale del condannato c'è Adriana Destro che è la moglie del professor Paolo Pesce ci dice la crocifissione non era soltanto un tipo di agonia crude ma di degradazione rito di degradazione a livello antropologico cioè facendo morire così il condannato si voleva cancellare ogni ricordo positivo di lui dalla memoria dei viventi cosa succedeva che il corpo veniva gettato o nella fossa comune dei giustiziati e ritrovamenti archeologici ci dicono queste fosse comuni dei giustiziati oppure addirittura preda degli avvoltoi che lo scarnificavano ma Gesù fu sottratto a questo destino perché mancano dopo tre ore l'attività sul calvario si fa febbrile comparono Nicodemo e Giuseppe e Derematia ai nostri due amici secondo me seguono un piano preventivato perché uno va di corsa da Pilato a chiedere che Gesù dopo appena tre ore sia calato e un altro si presenta con che cosa con una quantità industriale di mirra e aloe cosa sono le mirra e l'aloe sono delle sostanze e disinfettanti chiaramente e fin dall'antichietà si conosceva il potere cicatrizzante della mirra e dell'aloe che ippocrates saltava già in un suo trattato di medicina ottima contro gonfiori buboni e ferite da guerra e quindi l'aloe l'aloe che oggi viene in pratica lavorata e trattata anche per farmi cosmetici era una sostanza medica come anche la mirra e quindi addirittura Giovanni qui parla di una quantità industriale 100 libri che tradotte in termini moderni sono addirittura qualcosa come 45 kg ora tu immagini queste qui debbono scendere sul Golgotho o salire sul Golgotho con una pedala di sacchi e i romani che cosa dicono cosa state facendo qui voi e allora sommiamo tutti questi a che cosa servire cioè quale relazione domando io ho scritto pure un articolo possono avere con un cadavere questo strato prodigioso di erbe medicamentose mi realo è provvisto dai due compari Nicodema e Giuseppe di Arimatea e quindi abbiamo qua sono molti motivi indizi che ci portano a dubitare che Gesù sia morto realmente e quindi tra le righe se essere intelligenti caro Alessandro singola intus leggere che c'è area di complotto non perché oggi va di modo del complottismo ma che gli avvenimenti convulsi del Calvario ci danno l'idea di una scrittura a due livelli come se gli amici di Gesù seguissero un certo piano con la precisione con la massima precisione e celerità possibile nello stesso tempo mantenendo la facciata di una morte e quindi dove finisce Gesù in un sepolcro nuovo che Giuseppe si era fatto scavare per sé perché povero Gesù perché doveva essere nuovo un criminale giustiziato in un modo impuro secondo la legge insieme ad altri corpi avrebbe fatto sollevare obiezioni di natura medico legale quindi Gesù viene sepolto in una tomba perché quella tomba era vicina perché è così importante per Giuseppe e Micodemo che quella tomba fosse vicina perché cosa quindi è chiaro che i nostri autori danno un quadro un po' larbatamente cospiratorio degli avvenimenti successivi alla morte al Calvario e quindi ci sono ovviamente quando io ho esposto questi particolari queste incongruenze anche questi piccoli misteri non ho dimostrato assolutamente nulla e però perché in questi casi in un campo come queste certezze assolute non ce ne è e però se noi sommiamo tutte queste incongruenze sono degli indizi e tanti indizi però fanno diciamo una certa prova che ci è legittimo dubitare che Gesù sia morto realmente sulla croce il Vangelo non mi ricordo di Pietro o di Nicodemo si dice addirittura che Gesù fu visto allontanarsi preso sotto braccia proprio da Giuseppe da Rimatea e da Nicodemo e fu visto allontanarsi sulle sue gambe e c'è due che lo sostenevano un risorto in gloria necessita di un simile impegno è difficile non vedere in questa immagine quella di un uomo ancora claudicante e non ancora completamente ristabilito a dire la verità vuol dire comunque che la flagellazione ci fu è quella c'è sempre perché gli studiosi dicono gli studiosi cattolici che vogliono trovare una scamotace per la rapida morte di Gesù che Gesù viene violentemente flagellato ma tutti subivano la flagellazione preliminare non fu un'eccezione fatta per Gesù e quello è il punto alessante però ritengo che qui certezze matematiche non ce ne sono ma c'è un buon margine di dubbio come se non mettiamo insieme tutte le incongruenze di questo racconto chiaramente ma tu Alessandro invece dubbi non ne hai non abbiamo dubbi anche perché a quel punto noi siamo andati alla ricerca di eventuali tracce di Gesù dopo il processo da che cosa si distinse la resurrezione di Gesù dalla resurrezione di altri dei archetipi di cui abbiamo parlato prima e perché gli gnostici avversarono questa resurrezione di Gesù perché per la prima volta abbiamo assistito ad una resurrezione carnale di un uomo vivo e vegeto tant'è che Paolo ci dice che nel 52 fu no Felice fu procuratore dal 50 al 58 mi sembra sotto il procuratore Felice rischiò di essere vinciato dagli ebrei Paolo negli atti degli apostoli perché asseriva che Gesù era ancora vivo e questo per questo motivo ha detto Gesù che Paolo ritiene essere ancora vivo ancora vivo non solo ma si dice che fu visto dai 12 addirittura dai 500 persone mangiare bere parlare interagire carnalmente con loro allora io vorrei spiegare un attimo l'origine della differenza tra l'agnosi e questa resurrezione carnale come nasce l'agnosi e perché osteggiarono gli ignostici questa resurrezione di Gesù qui dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo nel 29 giugno 3123 a.C. quando cadde una cometa la cometa Barker nell'oceano indiano che causò poi il mito del diluvio universale la coda della cometa si scantò sulla terra di Sumer sulla valle dell'Indo cadde nell'oceano indiano sollevò onde alte oltre 200 metri e fortunatamente cadde nell'oceano se fosse caduta sulla terra l'intera umanità sarebbe andata incontro all'estinzione in quel caso io usai i testi delle alimentazioni che sono i testi più antichi che abbiamo che ci parlano della distruzione delle prime città-stato Sumere da Ur, Rai, Rai, Nippor ed altri dove si parla e io non ho capito i cari sumerologi come non hanno fatto a capire che lì si parlava proprio della caduta di una di una cometa che devastò tutto quanto di sofferenze inerrabili da parte dell'umanità causata dallo schianto di quella cometa di pietre incandescenti corpi che vaporizzavano bambini che chiedevano aiuto alle mamme le mamme che non potevano aiutarli quella catastrofe immane da cui sopravvissero poche persone portò l'uomo a concettualizzare dal punto di vista antropologico il fatto che non potesse essere ehm stato un dio benevolo a creare una catastrofe così gigantesca causa di inerrabili sofferenze e quindi idealizzarono un demiurgo malvagio un demiurgo creatore dell'universo dell'impurità della materia è un dio trascendente al di sopra di questo demiurgo con cui l'uomo avrebbe dovuto poi riunire la sua scintilla divina la sua anima alla sua morte ovviamente la resurrezione carnale di Gesù poneva questo problema perché? perché non si era liberato della del suo corpo come poteva quindi leggersi a dio e dire sono il figlio di dio non essendosi liberato da questa impurità della materia creata dal demiurgo sì e quindi non c'è spazio per la materia fisica in campo spirituale quale sarebbe lo spazio di trascendenza spirituale in cui un corpo di carne umana può andare e viaggiare chiaramente e quindi il problema che Strauss Davide Friedrich Strauss un grande razionalista dell'illuminismo diceva se Gesù è stato assunto in una dimensione della trascendenza della dimensione della trascendenza ci può andare lo spirito se Gesù è risolto con la carne i suoi residui umani terreni da che parte stanno deve esserci un posto sulla terra ecco un altro problema che suscita la resurrezione di Gesù poi un'altra e qui mi aggancio a quello che hai detto tu resurrezione carnale carnale ma Paolo si sforza e dice che il corpo di Gesù aveva subito una trasfigurazione spirituale e gli evangelisti ci dicono che entra a porte chiuse che scompare e però Luca contiene il massimo di queste contraddizioni a Gesù dopo la resurrezione fa mangiare un bel favo di miele e una bella pagnotta di pane con del pesce rostito l'apologica dice Gesù lo fece per dimostrare la continuità tra il corpo crocifista e quello risolto ora io ho una domanda che già facendo i razionalisti un corpo spirituale un plasma di pura luce trasfigurato dove ha la sacca gastrica per mettere il favo di pane il favo di miele il pane il pesce rostito conserva gli organi terreni no assolutamente non può conservare gli organi terreni poi noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dice Pietro dopo la sua resurrezione dai morti un corpo eterno e spirituale mangio e bello quindi qui si ha la sensazione purtroppo più che altro non di una vittoria di Gesù sulla morte ma in qualche modo di una vita che prosegue dopo la morte certo poi anche Tommaso le piaghe come mai un corpo trasfigurato eterno ha delle piaghe terrene gli ebrei sapevano benissimo che tutti sarebbero risolte però attenzione se noi sappiamo tutte le profezie gli ebrei credevano che la resurrezione fosse uno stato luminoso e puro dell'essere in cui non ci sarebbero state più le imperfezioni le macagne della vita terrena quindi per questo la perplessità degli apostoli anche Tommaso perché un corpo spirituale può avere piaghe può essere sfigurato quindi la concezione della resurrezione implicava che i corpi dei risorti per gli ebrei fossero nel più elevato stato dell'essere non feriti non feriti e sfigurati e allora Gesù mostra le piaghe Tommaso stesso e gli apostoli sapevano che in un corpo spirituale risorto non ci dovevano essere invece c'erano ecco tutta la contraddizione fra resurrezione di Gesù come un fatto spirituale o resurrezione carnale può un corpo di carne in un corpo spirituale mangiare e bere può un corpo spirituale avere delle piaghe in cui Tommaso va a cercare quindi in realtà che cosa come se ne esce fuori in realtà aspetta te lo dico io come se ne escono fuori per salvare i capri cavoli con la bufala del peccato originale ah eccola la bufala del peccato originale quindi il nostro corpo e la nostra carne carne di espiazione dobbiamo espiare il peccato chiaramente e quindi l'ideale poi del monachesimo che sarà più mortifichi il corpo più elevi lo spirito quindi mortificare il corpo per i mondici che cos'era riprodurre misticamente in sé le sofferenze del Cristo da cui i flagellanti del medievo che arrivavano a percuotre secondo delle catenelle uscua diffusione nel sanguinis per riprodurre naturalmente si pestavano i piedi le mani con mortali di ferro ancora oggi nella chiesa se tu vedi la iglesia no Cristo la chiesa nera delle Filippine nella in pratica cerimonia pasquale del salvatore nero ci sono dei giovani che per esempio in un vuoto si fanno inchiodare veramente alle croci se voi andate su google inchiodare veramente per sciogliere un vuoto ad emperlo poi vengono calati vengono curati e evidentemente dopo quante ore tre ore ci stanno sei ore evidentemente non muoiono quindi bisogna avere il prosciutto negli occhi per non vedere la realtà dietro tutti questi particolari quindi l'agnosi per l'agnosi la resurrezione che cos'è è soltanto un simbolo che esprime il rinnovamento spirituale operato nella fede infatti nel Vangelo di Filippo che è un testo gnostico si dice sbagliano coloro che dicono che il Signore prima è morto e poi è risorto perché è vero che il Signore prima è risorto e poi è morto se tu non subimenti questa resurrezione spirituale in vita dentro di te dopo la morte non si avrà nulla quindi la resurrezione che sono gli spiritualisti entusiasti di Corinto e di Colosse contro cui Paolo combatte affermavano che era in realtà soltanto una sorta di presa di coscienza o di illuminazione del sé qualcosa di analogo all'esperienza induista e buddista quindi la riattivazione di questa scintilla spirituale come tu dici decaduta nel mondo materiale che poi deve ricongiungersi col principio divino e quindi ma siamo sicuri che in Gesù c'è l'influsso dell'agnosi in Giovanni in realtà ci sono parecchie affermazioni gnostiche laddove Gesù per esempio dice agli apostoli se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato a me se voi foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo ma voi non siete del mondo ma vi ho scelti dal mondo e quindi già il mondo materiale assume un significato negativo e Gesù prosegue ora è il giudizio di questo mondo ora è il principe di questo mondo sarà battuto fuori chi è il principe di questo mondo l'arconte malvagio e Gesù prosegue quando con i suoi fratelli ha un dialogo dice il mondo non può odiare voi ma odia me perché io attesto di lui che le sue opere sono malvagie non sentiamo il sapore dell'agnosi in questi discorsi quindi è sbaglia quella tesi storiografica che pone un netto confine tra cristianesimo ortodosso e ignosi perché i confini non che ci sono ma sono molto più fluidi tra realtà ecclesiale e ignosi perché in realtà in Giovanni troviamo molte affermazioni ignostiche per esempio il contrasto luce e tenebre veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce perché non apparisse che le loro opere erano malvagie chi infatti fa il male opera nelle tenebre e allora Giovanni è stato influenzato molto dalla ignosi mondo spirituale puro mondo materiale malvagio e dal mondo bisogna redimerci ma lo so domanda a te che tu sei specialista in questo qui ci si può riportare però a Qumran la lotta dei figli della luce contro i figli delle tenebre perché questa espressione luce e tenebre è presente nel dualismo di Qumran e qui però non mi addentro perché il problema è complesso se la ignosi è complesso perché poi gli esseni nascono da Onia IV che costruisce il tempio alle Utopoli mentre ma erano comunque parenti con i terapeuti di cui faceva parte poi Gesù e la famiglia dei Boetus perché erano tutti quanti allacciati attraverso la casata degli Oniadi adesso invece vorrei un attimo andare avanti dopo la morte finta morte e resurrezione carnale di Gesù punto interrogativo rigorosamente punto interrogativo morte o sveglimento quindi la resurrezione in questo contesto sarebbe una rianimazione in realtà una ripresa di Gesù certo per cercare di capire se ci fossero tracce storiche di un Gesù ancora in vita e quando morì perché abbiamo trovato addirittura le ultime parole di Gesù dopo a distanza di duemila anni ucciso nel febbraio febbraio del 68 durante la prima guerra giudaica dai Dumei e dagli Zeloti innanzitutto nel 37 morirà l'imperatore Tiberio e Pilato fu destituito e sostituito da Marcello questo per le malefatte che aveva fatto in quanto Gesù era l'ultimo figlio spedito in Galli addirittura forse come punizione da Caligola ha due persone differenti una in Spagna e una a Lione in Francia Tito Flavio ah no no scusami stavo parlando di Antipa dunque nel alla morte di Tiberio si fu fu messo sul trono Caligola tra l'altro nel secondo libro di Oltre il velo di Iside quando vedrete chi uccise Caligola vi prenderà un colpo a tutti quanti perché era un personaggio che fu a stretto contatto con Paolo di Tarso hai mai sentito parlare di Aquila Aquila fu colui che uccise materialmente con il corpo di spada l'imperatore Caligola perché che cosa fece Caligola innanzitutto pose le sue statue all'interno del Tempio di Gerusalemme si autodeificò ma invece di dare la regalità Gesù aspettava a lui in quanto ultimo figlio del re Ero del Grande diede la regalità al re Agrippa I figlio di Aristobulo e di Berenice Aristobulo era il figlio di Ero del Grande e di Maria Lasmonea mentre Berenice era la figlia della sorella di Ero del Grande Salome e del governatore dell'Idumea Costobar e dicevo fece diede la regalità ad Agrippa invece che a Gesù perché perché Agrippa parlò male di Tiberio e dicendo che meritava quando Tiberio era ancora in vita di essere fatto imperatore Caligola Tiberio venne a sapere questa cosa e infligionò Agrippa quando Tiberio molì Caligola liberò subito Agrippa e gli diede la regalità abbiamo trovato passi dove Gesù era ancora in vita sotto l'imperatore Caligola quando mise poi le sue statue nel trono e nel tempio di Gerusalemme causando una rivolta dove si parla proprio di Gesù ben Pantera il Nazareno che diede origine a questa rivolta sotto Caligola ma andiamo avanti che cosa fece poi Agrippa a cui Caligola diede la regalità ad un certo punto perché Gesù evidentemente gli aspettava quella regalità che lo stesso Tiberio gli voleva dare imprigionò Giacomo il Maggiore e ci dicono gli atti degli apostoli visto che la cosa era gradita agli ebrei decise di imprigionare anche Pietro la figlia di Pietro Petronilla stava con il potente governatore Flacco e che cosa successe successe che un angelo liberò dalle catene Pietro lo rese invisibile davanti a quattro picchetti di quattro legionari romani e lo liberò quell'angelo liberatore altri non era che il governatore Flacco dopodiché Agrippa dopo quattro giorni morì tra atroci tormenti allo stomaco morto avvenenato e siamo nel 41 arriviamo al 45 e abbiamo la rivolta di Teuda un altro Teuda chi era questo Teuda Giuda Taddeo Didimo Tommaso figlio non di Teuda e di Maria Boeto ma di Giuseppe e Maria Boeto perché sto dicendo questo se tu guardi attentamente i Vangeli sotto la croce di Gesù nel Vangelo di Marco e di Matteo non si parla della madre di Maria vengono menzionati Maria madre di Giacomo e di Giuseppe o Iose lo stesso dice Matteo Giovanni si accorge di questo fatto e dice ma cavolo ma qui non c'è la madre di Gesù come è possibile e ci dice c'era la madre di Gesù e sua sorella Maria di Giacomo facendo uno soccamento nel Vangeli ci viene detto non è questi Gesù il figlio del Carpentiere non sono lì i suoi fratelli Giacomo Giuseppe Simone e Giuda vengono sempre elencati in questa maniera noi abbiamo visto dai tessicopti ritrovati a Nagammadi che Giacomo Maria lo ebbe proprio da Teuda quindi abbiamo Giacomo e Giuseppe che Maria Boeto ebbe da Teuda colui che prese il veleno per spacciare Eroda del Grande insieme a proprio a Maria che fu in combutta per l'uccisione di suo marito Eroda del Grande dopodiché Teuda rientrò in a Gerusalemme tentò una rivolta e fu ucciso prima di Giuda il Galileo ovvero prima del 6 alla sua morte per levirato Maria sposò Giuseppe quindi Simone chiamato anche di Cleopa e Giuda di Tommaso li ebbe molto probabilmente da Giuseppe e non da Teuda ma Teuda è una variazione del nome Teuda Ieuda Giuda Tadda Ios T D senza la vocalizzazione quindi quest'altro Teuda che nel 45 fece una rivolta contro Cuspio Fado se voi andate su Wikipedia vi trovate questa incongruenza ma come è possibile che Teuda ci dice Gamaliele che fu ucciso prima di Giuda il Galileo e poi ci troviamo Teuda nel 45 vivo sotto Cuspio Fado altri non era che Giuda Taddeo di Dimo Tommaso fratello di Gesù figlio di Giuseppe e di Maria Boeto quindi 45 abbiamo la rivolta di Teuda fratello di Gesù 49 ci troviamo Gesù e Pietro a Roma Jacopo da Cavarazzi in leggenda aurea ci dice che si incontrano addirittura fuori le mura di Roma e l'imperatore Claudio di Covatis elaborazione leggendaria Covatis domine che Pietro domanda a Gesù dove vai signore Gesù risponde vada a Gerusalemme dove mi crocificheranno la seconda volta la seconda volta trasfigurerà e abbellirà questo episodio della leggenda ti ricordi cosa disse Svetonio rispetto all'editto di espulsione dei giudei invece l'imperatore Claudio il famoso Cresto Simpulso i giudei che erano in tumulto estigati da Cresto e li espulsi dalla capitale nella vita dei dodici cesi ora c'è un Cresto presente a Roma e quindi questo Cresto che aizza potrebbe benissimo essere un errore dello storico per Cristo non è un errore abbiamo svelato l'Arcano allora innanzitutto noi sappiamo dalla genealogia che abbiamo ricostruito che Gesù discendeva da Mitridate Crestos Crestos voleva dire il buono il valente il migliore lo stesso Siride veniva chiamato un Nefer che voleva era un sinonimo di Crestos mentre il termine Crestos l'unto era il Messia che avrebbe dovuto liberare Gerusalemme attenzione perché poi nel 63 Gesù diventerà anche Cristo ma lì ci chiarisce tutta la questione Orosio perché Orosio ci dice uno storico non si capisce perché Flavio Giuseppe menzioni Cristo in questa rivolta dei giudei che ci fu a Roma durante l'editto di espulsione tra cui poi Aquila e Priscilla che fece l'imperatore Claudio e quindi Orosio che cosa ci ha detto in quel passaggio che Giuseppe Flavio parlava della rivolta di Gesù che istitigava i giudei alla rivolta contro l'imperatore Claudio e quel pezzo è stato tagliato e purato e censurato dai testi di Tito Flavio Giuseppe e lì lo chiama attenzione non Cresto ma Cristo a dimostrazione che stiamo parlando proprio del Gesù dei Vangeli e mi dico che poi nel 49 saranno costretti a fuggire e ci ritroviamo la rivolta dell'egiziano hanno tolto Gesù dall'egiziano abbiamo fatto tutta l'analisi divise il torrente Sedron tentò una rivolta e dal tribuno Claudio Lisia viene scambiato per Paolo viene preso per l'egiziano non sei quell'egiziano che tempo fa portò 4.000 uomini nel deserto e dice no io non sono egiziano io sono nativo di Tarso e vedo questo Paolo e l'egiziano dovevano assomigliarsi come due gocce d'acqua perché questi leader messianista agli occhi dei romani erano un po' costruiti sullo stesso oppure anche lì c'è qualche qualche cosa che gli evangelisti hanno rimaneggiato una verità rimaneggiata a livello teologico in realtà quale potrebbe essere il fatto che il tribuno scambi Paolo per l'egiziano in realtà teme che lui sia un sobbillatore in realtà i primi discepoli di Gesù e seguaci di Gesù non erano poi pesantini aureolati dall'arte sacra per esempio noi abbiamo i due boanerges tra i discepoli Gesù vuol dire figli del tuo figli del tuo che tratta un termine zeloto poi sappiamo che Gesù aveva un discepolo proprio che si chiamava Simone lo zelote anche Iscariota Iscariot vuol dire sicario era una piccola spada corta che tenevano nascosta tra le vesti con cui poi a Gerusalemme colpivano durante la Pasqua e poi lasciando dei morti sul campo e ogni anno ai Romani a Pasqua c'era il bollettino dei caduti sul campo da contare e quindi per questo avevano costruito la fortezza di Antonio a ridosso del Tempio per controllare tra l'altro l'attività e per esempio anche qui a proposito il tumulto nel Tempio sicuramente l'azione di Gesù contro i mercanti o i cambi avoluti va causata a tutto muto perché i Romani non sono intervenuti e soprattutto come i mercanti che dovevano avere dei bastoni nodosi non hanno reagito hanno accertato che Gesù buttasse a terra le loro bancarelle facesse il bello del cattivo tempo Gesù da solo oppure fu un'azione di forza Gesù era seguito da qualche gruppo ozelota ozelante e temporaneamente Gesù poteva occupare con il suo il Tempio c'è un particolare su cui gli studiosi cattolici non riflettano che Gesù dice di non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio come faceva non permetteva l'idea dell'imperfetto lascia supporre un'azione prolungata che Gesù e i suoi possano avere una mia idea picchettato il Tempo dopo un'occupazione di forza per un certo periodo perché se non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio dicono gli evangelisti significa che Gesù deve aver occupato il Tempio cioè avere non limitato soltanto a scalapentare a terra le bancarelle dei cambi avoluti ma che cosa in qualche modo interferito con la normale attività di culto del Tempio e allora Gesù solo può averlo fatto deve aver avuto una base d'appoggio e quindi c'è stato un movimento zelota che lo ha seguito uomini disposti con lui ad affrontare le guardie del Tempio e i Sadducei tu che ne pensi Alessandro? Erano tutti familiari di Gesù tutti appartenenti alla famiglia di Erode ti faccio un esempio lo stesso Matteo esattore delle tasse o Levi era figlio chiamato figlio di Alfeo Alfeo era una variante di Cleopa Alfeo Cleopa era Giuda Didimo Tommaso ed era un nipote quindi di Gesù tutti i discepoli erano tutti parenti di Gesù ragazzi hanno costruito il cristianesimo sulla famiglia di Erodiani lo stesso Paolo di Tarso abbiamo dimostrato essere nipote dell'Erode grande tant'è che poi è una casa di Aristobolo dice Paolo quindi lui era imparentato con l'alta aristocrazia romana Paolo Paolo era il figlio di Erode e di Erodiade si e d'altronde com'è che Paolo può organizzare gestire in tutti i paesi del Mediterraneo e guarda caso quando lui la sua attività suscita dopo un punto chi gli salva la vita l'autorità romana prima il tribunale il fatto che si appellò a Cesare e disse di avere la cittadinanza romana la cittadinanza romana era un privilegio allora gli copriva le spalle e infatti Paolo proprio per via della cittadinanza romana potrà scavalcare il verdetto del tribunale di Gerusalemme presentando istanza direttamente all'imperatore bastava che il cittadino romano durante l'istruttoria pronunciasse la fatidica frase civis romanus sum Cesare e Mattello che subito il dibattimento cessava e l'imputato con tutti i rotoli dell'istruttoria veniva trasferito nella capitale quindi in realtà che cos'era un vero e proprio privilegio che dava al civis romanus il diritto di presentare querelo la mentela nei confronti del modo in cui un giudice locale non ha trattato il suo caso presentando istanza direttamente dal tribunale imperiale San Paolo era protetto dal diritto di cittadinanza romana quindi lui non poteva morire di croce perché la croce era riservata agli schiavi o ai delinquenti o a coloro che non erano nel possesso dei diritti civili nel caso di Gesù che non era un cittadino ma un provinciale sappiamo come è venuta a finire infatti ecco la differenza un attimo solo per dirvi che abbiamo già quasi un'ora e mezza quindi dobbiamo tirare le somme voi siete inarrestabili io vi lascio parlare ma guarda mi pare a fare delle puntate continuare perché mi siete inarrestabili io c'è da fare un seminario la volta che vedo una persona come professore che supera Alessandro De Angelis ma supera no diciamo sono suo degno suo degno compagno sembra ha trovato pane per i suoi denti abbiamo un interesse comune ci siamo sentiti prima su facebook ci siamo conosciuti c'è questo mio interesse per gli studi biblici per la storia delle origini cristiane e Alessandro mi ha intercettato vedendo anche le mie pubblicazioni e così abbiamo è nato questo sodalismo chiamiamolo così infatti come facciamo ditemi anche per vado in chiusura vorrei vorrei menzionare le ultime parole di Gesù prima che morisse non prima però di ricordare che i riconoscimenti nelle pseudo omelie di Clemente c'è una nota che ha dato molto fastidio al Vaticano perché nel 62 venne ucciso Giacomo fratello di Gesù e nei testi che ho trovato Giacomo appoggiava Simon Mago che era gnostico e era alla corte di Nerone e si dice che gli diede una fascina di testa e una fascina di legno che veniva usata nel tempio per accendere il fuoco sulla testa ruzzolò per le scale e fu ucciso da un follatore ebbene Gesù dopo che morì suo fratello Giacomo sposò per levirato sua moglie Marta Boeto anche lei della famiglia che diede ben 72 talenti d'oro al re Agrippa II per fargli dare la carica di sommo sacerdote quando gli fu data la carica di sommo sacerdote Tito Flavio Giuseppe cosa ci dice che Gesù raccolse una banda di temerari e si scagliò contro il suo predecessore a cui aveva attraverso la corruzione tolto il sommo sacerdozio e si prisero a insulti e a parolacce e aggiunse che Paolo di Tarso Saul raccolse bande di malviventi ed espropriava di tutte le ricchezze i più deboli attenzione perché io sto parlando di Tito Flavio Giuseppe che racconta queste cose da quel momento Saulo fratello di Costobaro se non sbaglio era si Saulo fratello di Costobaro ma Costobaro sai chi era era il marito di Salomè da Costobaro Salomè nacque Berenice Berenice sposò Aristobulo Aristobulo era il padre di Agrippa I di Erodiade di Erode di Calcide di Aristobulo e di Mariamne Erode di Calcide ebbe un figlio Aristobulo di Calcide che sposò Salomè che era la sorella di Paolo di Tarso figlia di Erodiade e di Erodiade il cristianesimo nasce tutto in famiglia cioè un po' come da noi in Sicilia purtroppo si dice cosa nostra è stata una cosa loro in pratica lettere ai romani saluto i familiari di Aristobulo saluto Erodione mio parente da Salomè quando dal tetrarca Filippo non ebbe figli una volta che sposò Aristobulo di Calcide ebbe proprio Erodione e quando poi fu imprigionato sotto Felice quando gli ebrei volevano uccidere si dice che fu il figlio di proprio questo Erodione il figlio di Salomè ad avvisare Paolo che volevano ucciderlo sì negli atti e va a avvisare c'è questa ragazzina che va a avvisare Claudio Lissia che c'era un complotto dei Giudei che si erano vincolati con voto esecrando quindi Erodiade Erodiade ha chiuso la posta da Paolo e allora che cosa fa? Claudio Lissia il tribuno fa partire direttamente di nascosto Paolo con uno squadrone di cavalleria che lo scorta da Gerusalemme a Cesarea vedete come Paolo è sempre protetto l'autorità romana il nonno di Erodiade si chiamava Costobbaro e il figlio di Erodiade si chiamava Costobbaro Saul Paolo di Tarso ed Antipa tant'è che nel 63 che cosa successe nel 63 Gessio Floro depredò il tempio di Gerusalemme per pagare degli arretrati che doveva le legioni e tolse dei soldi al tempio di Gerusalemme scatenando una rivolta al tempo i procuratori ci tentavano a questo tempo perché già una volta Pilato per costruire un acquedotto aveva messo mano al tempio e causò una rivolta per tre giorni ci furono gli occogli in pratica quelli che protestavano davanti al suo palazzo a Cesarea quindi ci tentavano per e Nerone fu costretto a mandare il suo procuratore Cessio Gallo Cessio Gallo mandò Saul e Costo Bardanerone in Grecia a fargli dire che cosa era successo che la causa della rivolta era stata dovuta causata da Gessio Floro che era corruttibile liberò molti prigionieri in cambio di soldi e aveva depredato il tempio di Gerusalemme dei suoi denari per pagare e gli arretrati che doveva a questi ai suoi legionari quindi ci ritroviamo addirittura con Paolo di Tarso e Costobar che andarono in Grecia da Nerone da lì ritroviamo anche Pietro poi a Roma insieme a Nerone dove incenderanno i nostri cari eroi cristiani Roma i quartieri più poveri di Roma tant'è che lo stesso Nerone rischiò di rimanere bruciato nella sua Domus Aurea che aveva da poco costruito e dovette dilapidare tutte le ricchezze dell'impero per ricostruire Roma con norme addirittura anti antincendio questo perché perché aveva fatto un lui che è seguito i Vigiles o Augusto aveva seguito i Vigiles che non ne ha trattato nei nostri modelli di Vigile o era stato lui o Nerone o Augusto o Nerone l'istituzione dei Vigiles funzioni non dissimili i Vigili del Fuoco sì sì già c'erano i Vigili Augusto del Fuoco in quel periodo e lì ci dice praticamente poi ci furono i Moti che diedero inizio alla prima guerra giudaica e Gesù lo abbiamo ritrovato durante la prima guerra giudaica ancora in vita gli zeloti e molti di questi poi perché si spacca ogni due la famiglia degli erodiani depredarono addirittura il popolo di Gerusalemme e delle sue di tutti i suoi beni lo ridussero alla fame tant'è che Gesù ed Anania organizzarono il popolo contro gli zeloti e li costrinsero a rinchiudersi nel Tempio di Gerusalemme e ci narra proprio le vicende di questi che tiravano pietre dall'alto alla fine alla fine però riuscirono a far uscire uno dei loro e ad avvisare gli rumei gli rumei accorsero in forze con un esercito di 20.000 uomini e circondarono le mura di Gerusalemme a quel punto Gesù dall'alto di una torre pronunciò un discorso che riportiamo nei nostri libri e che riemerge da nei sceneri del tempo delle mistificazioni di una storia narrata in maniera completamente distorta rivolgendo questo discorso agli dumei e ci dice a questo discorso la massa degli dumei gridò il suo assenso mentre Gesù si ritirava scoraggiato nel vedere che tra gli dumei non c'era alcun proposito di moderazione eccetera eccetera tre pagine di un vero discorso di Gesù riportiamo nei nostri libri pronunciato da Gesù verso gli dumei ma alla fine gli dumei riuscirono ad entrare nel tempio di Gerusalemme e Giuseppe Fabio ci narra addirittura la loro fine senti Alessandro ti volevo dire ma la reazione della chiesa queste due ricostruzioni ti sei mai confrontato con un sacerdote teologo monsignor mi interessa di Nicole Ciccolò Nicole è venuto un sacerdote a confronto cosa ha detto perché qui tocco io un tasto dolente un punto spinoso noi stiamo lanciando appelli a destra e a sinistra ogni tanto adesso vabbè magari col prossimo anno cosa dici ce la facciamo sono scappati tutti gli esponenti della chiesa ho preso un professore del Vaticano col dottorato in Qumran traduttore di ebraico lo sapete tutti quanti prima ha detto accetto il confronto poi quando ha visto le prove ha scritto alla giornalista che stava in Egitto per l'intervista dicendo non posso accettare il confronto con Alessandro De Angelis perché sarebbe compromettente leggiamolo come morì Gesù invece quando entrarono gli Domei in breve li presero e li uccisero poi accalcandosi presso i loro cadaveri beffeggiarono Anano per il suo amor di patria e Gesù per il suo discorso dalle mura giunsero a tal punto di impietà da gettarli via in sepolti mentre i giudei si danno tanta cura di seppellire i morti eccetera 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 ma qualcosa ancora più importante sai cosa dice Giuseppe Flavio Giovanni che la notte prima che gli Domei riuscissero ad entrare Giuseppe Flavio ci dice sembrava alla fine dell'universo ci fu un violento temporale e una forte scossa di terremoto ti ricorda qualcosa il terremoto durante la morte di Gesù in croce le rocce che si spezzarono i loculi che si aprirono e morti e i morti i santi morti uscirono risuscitarono e dopo la risurrezione di Gesù entrano a Gerusalemme a padre a morti insomma Matteo dipinge uno scenario che oggi Dario Argento lo vorrebbe come suo cosceneggiatore sono questi che risuscitano e cominciano a camminare per le vie della città quindi cosa fa Matteo in realtà lui scrive dopo le settanta potrebbe aver preso pezzi di quella storia per riadattarli teologicamente al suo racconto esatto hanno ritrodato quel terremoto a quando Gesù spirò in croce da cui invece abbiamo visto sopravvisse sopravvisse allora cosa facciamo ora vista l'ora tarde visto che abbiamo fatto una vera lezione voi siete inarrestabili senza soluzione di continuità ma purtroppo purtroppo devo dare per forza una devo interrompere devo interrompere perché qua veramente adesso mi metto il cappellino di Natale ho deciso che lo faccio perché oggi è Natale Nicol vorrei chiudere io mi sono messa il cappellino di Natale per spezzare per dare una soluzione per devo devo interrompere facciamo una cosa io chiudo facendo l'aguri di buon Natale a tutti quanti mi sono arrivati 12 milioni auguri Alessandro auguri a tutti i nostri cari ascoltatori e buon Natale comunque lo si interpreta e lo si viva sì sì mi sono arrivati 12 milioni dal nuovo ordine mondiale per far cadere il cristianesimo così che tutti gli operai compreso te che se lavori a scuola lavoreranno ben 20 giorni in più quante sono le festività Pasqua Natale l'Immacolata San Pietro e Paolo eccetera eccetera e quindi guadagneranno molto di più i nostri usurai ecco perfetto ci voleva ci voleva regalino poi mi dai Liban ti mando la parte a te a Giovanni ovviamente ovviamente si direi tra l'altro sono stacanovista io giustamente dal collo del cattolicesimo ci guadagno in stacanovismo sì ma altronde noi è una una stacanovismo giustamente intesa va bene dai allora al prossimo ci vediamo prossimamente con i nostri approfondimenti grazie grazie professor Brunaggiuso grazie Alessandro Deani ciao Giovanni ciao Nicole a tutti per tutti quanti aiutateci a diffondere amici ascoltatori arrivederci ciao ciao